Benvenuti su Notizie Non Click e io sono Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato fino adesso che andremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata di oggi, primo maggio. Marco Travaglio, levategli il fiasco. La sinistra di Enli dalla Tavda a Vogue. Animali, il pallo dell'osso. La russa contestato se la prende con i giornalisti. Sondaggio, il 63% degli elettori è d'accordo alle restrizioni per accedere al reddito di cittadinanza. Per l'estero, l'Occidente distratto dalla guerra lascia il resto del mondo alla Cina. Pareggio fra Napoli e Salernitana, gol di Oliviera e Dia. Questo e molto altro potete trovare sul nostro portale di informazione. Grazie per essere stati con me, ma non vi lascio senza prima aver letto alcune frasi per la dedicata alla giornata di oggi, primo maggio. Il scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. Aristotele, l'uomo che si vergogna del suo lavoro, non può avere rispetto di se stesso. Russell Allora Allora